La Casa del Consumatore è un'associazione dei consumatori che tutela i diritti dei cittadini e dei consumatori. È un'associazione che ha sede nazionale a Milano, ha sede in tutta Europa e tutta Italia. Si è costituita ufficialmente a Villa Cidro, in via Generalo Murgia, 1,43, la sede regionale. La nostra associazione è un'associazione che mirerà a tutelare a 360 gradi tutti i diritti dei cittadini. Quindi invitiamo tutti i cittadini che vedano lezioni i loro diritti a rivolgersi alla nostra associazione. Molto spesso se andiamo i cittadini che preferiscono non tutelare i loro diritti perché non sanno a chi rivolgersi e cosa fare, adesso creeremo per tutti i cittadini un punto di riferimento. Sono diverse le iniziative che pensiamo di intraprendere in materia di sanità, di tutelare i cittadini nei rapporti con le banche, di tutelare i cittadini nei rapporti con gli enti pubblici. La prima iniziativa che andremo a sviluppare entro il mese di aprile sarà quella di uno sportello dedicato a favore dei cittadini per i problemi con l'ente gestore dell'acqua, quindi con Abanoa. Invitiamo tutti i cittadini che hanno i problemi con l'ente Abanoa a recarsi presso la nostra associazione per tutelare i loro diritti. Quali saranno i vantaggi per il consumatore? I vantaggi e gli obiettivi che si propone alla Casa del Consumatore sono fondamentalmente tre, quello di informare, quello di assistere e quello di far risparmiare. Il primo obiettivo è quello di informare, di informare il consumatore in relazione quindi a tutti i diritti in modo che il consumatore sia un consumatore consapevole dei propri diritti, quindi possa gestire i propri diritti, soprattutto in relazione alla contratualistica, in relazione a diverse problematiche che quotidianamente si propongono. Il secondo obiettivo è quello di essere assistiti, quindi si viene assistiti attraverso del personale specializzato, degli esperti, dei nostri sportelli che danno le informazioni più disparate, non soltanto personalmente, ma anche attraverso mail e attraverso la posta a quelli che sono i nostri associati. La possibilità quindi anche di poter usufruire del servizio della conciliazione e di poter risolvere in maniera stragiudiziale quindi tutta una serie di problematiche con i gestori telefonici, con i gestori idrici o con le banche o con le imprese di assicurazione, quindi risparmiare non soltanto tempo ma anche denaro, evitando quindi tutte le lungaggini che riguardano i giudizi, evitando necessariamente di avere una lite giudiziaria, ma di risolvere e di risolvere in maniera immediata i propri diritti e quindi vedere soddisfatti i propri interessi in breve tempo, non dopo lunghissimo tempo come molto spesso accade, dovendo andare in giudizio. Quindi vi invitiamo a rivolgervi a noi proprio per avere assistenza, per essere informati e per risparmiare.